La 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 Che bello che sono! Buonasera a tutti! Buonasera, come state? Tutto bene? Che bella canzone! Che bella canzone! Fa venire voglia di cantare! Ma ragazzi, ma ditemi la verità, ma quanto ci starebbe bene un canale dove canto le canzoni? Eh? Tipo, tipo moderno, no? Con i videoclip anche, no? Tipo, 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 invece che blanco Lanco, eh? Lanco il pazzo neomelodico, no? Non neomelodico Lanco il pazzo trapper del quartiere strapazzo, eh? Ci starebbe benissimo! Sarebbe bellissimo! Cosa ne dici? Secondo me ci sarebbe una meraviglia... Che cosa ho qua? Che schifo! Monnezza! Sarebbe bellissimo! Io ci vedrei un casino, eh! Vi ricordate le parodie delle canzoni che avevamo fatto, eh, ormai tanti anni fa, eh? Se c'eravate scrivete hashtag io c'ero nella chat Avevamo fatto quella, ehm... Come cazzo? Come si chiamavano? Ehm... Ehm... Occidentalis Crafta Poi... Ehm... Volare? Sì, vola, mi fa volare! Lo vuoi... Com'è che era? Lo vuoi crafta? Non me lo ricordo più Eh, quanto tempo fa, raga! Porca miseria, erano bellissime, dai! Ed erano venute bene anche, eh! Erano venute bene comunque! Infatti, cavolo, è una cosa che secondo me dovrebbero rifare Io lo rifarei volentieri Non lo evocare, brah! Non lo evocare! Non lo evocare! Non lo evocare, però... Dai che spacco! Ci vorrebbe, eh! Magari... Faccele sentire, ma... Le trovate su YouTube, eh! Le trovate su YouTube! Però era bellissimo! Io mi ricordo quando facevamo le canzoni, eh! E ci starebbe un canale di canzoni, eh! Soltanto che è un casino, perché... Cioè, ancora ancora inventarsi il testo... Alla fine, le parodie, il testo me l'ho inventato in tipo mezza giornata Quindi, penso che ce la farei Il problema è la melodia Perché è un conto e se fai la parodia che prendi la melodia di un'altra canzone, vabbè Però... Se tu ti devi inventare tutto Anche la canzone, proprio il suono Eh, è un casino, eh! Infatti, boh! Cioè, io posso anche campionarmi me che faccio così Però non credo che venga bene, ecco A me ci vorrebbe qualcuno che mi fa la canzone Sarebbe bellissimo Se conoscete qualcuno che fa le musiche, no? Tipo le basi Voi dite, Lion sta cercando uno che ti fa la base per il suo progetto neomelodico Non è neomelodico, però Insomma, la base di qua E sarebbe spaccante, sarebbe bellissimo, eh! Vabbè, comunque...